Buonasera e ben ritrovati con un saluto appuntamento con la voce delle istituzioni, ospite gradito in studio, Oscar De Bona che è il presidente dell'Associazione Bellunesi nel mondo, che saluto e che ringrazio per la disponibilità. Riprendiamo queste nostre conversazioni dopo un periodo particolarmente difficile anche per voi, avevate alcuni appuntamenti che sono saltati, quali sono? Avevamo molti appuntamenti nel mese di marzo, nel mese di aprile delle nostre singole famiglie, noi abbiamo circa 120 famiglie comprese quelle 20 che sono in provincia di Belluno, 100 sono al di fuori del territorio provinciale in tutto il mondo e questi 20 famiglie durante l'anno hanno i momenti, la messa, il pranzo sociale, l'assemblea e praticamente il 90% di queste manifestazioni sono state annullate, qualcuna rinviata ma il maggior numero sono state annullate. La stessa assemblea che quest'anno era un'assemblea di approvazione di alcune modifiche allo statuto e al regolamento per adeguarci alla legge del terzo settore, c'era la relazione del bilancio e la relazione del Presidente, sono state approvate a stragrande maggioranza da parte dei soci, per la prima volta dopo 54 anni abbiamo fatto un'assemblea in videoconferenza, è stata anche questa un'esperienza e lo stesso direttivo che si riunisce una volta al mese si è tenuto in videoconferenza. Per voi che avete tutti questi contatti con l'estero, qual è la percezione che avete di questa pandemia? Peraltro una curiosità che non è la prima volta che accade, in tutto questo pandemonio la Svizzera rimane sempre fuori, nessuno parla della Svizzera ma le famiglie lì hanno avuto qualche problema? No, loro sono sempre state attive, sono state prudenti, hanno seguito le indicazioni dei loro governanti nei vari cantoni, l'unico problema è stato che non hanno potuto raggiungere il belunese se non in caso di ricongiungimento, ma anche gli stessi numeri insomma vedono la Svizzera molto ma molto più tranquilla, ecco, degli altri paesi europei. Sì, certo non è un paese poco frequentato, mentre la situazione è molto complicata in Brasile. Sì, volevo dirti anche che comunque la nostra sede è sempre rimasta presidiata, quindi si è chiusa la biblioteca, si è chiuso il museo, la radio in streaming ha sempre operato e adesso siamo ritornati ad una apertura quasi normale. Abbiamo avuto tantissime richieste, intanto abbiamo avuto momenti grandi di vicinanza da parte delle nostre comunità nel mondo, in particolar modo dal Brasile e dall'Argentina e dal Messico che volevano continuamente informarsi attraverso i mass media, attraverso Whatsapp, Messenger, Skype, di sapere come stavamo, com'era la situazione, perché bisogna sempre pensare che loro hanno delle notizie in gran parte che sono riportate dalla stampa locale, da quella che loro possono leggere e anche se possono entrare in internet e vedere quello che succede qua, ma non si riesce mai ad avere un quadro reale della situazione. E queste richieste ci sono pervenute anche nel registrare alcuni audio da mandare a loro, perché per esempio il sindaco di Bento Gonsalves nel Rio Grande do Sul lo ha mandato in onda nella televisione locale, lo stesso dica se per Marta e Plata in Argentina o a Buenos Aires, anche se va detto che la maggior parte dei contagiati in Brasile sono nelle aree delle favela, nelle aree povere, in Amazzonia, su al nord, però insomma ci sono stati, per esempio tipo Casillas del Sol che è la terra di Anarec, alcune decine di morti ci sono state e quindi loro sono nel momento dell'apice del contagio. Noi inizialmente abbiamo vissuto questo momento con grande difficoltà e lo abbiamo trasmesso a loro, dopodiché noi ci siamo un po' più rasserenati e loro avevano cominciato solo a iniziare e adesso sono in una situazione come eravamo noi alcuni mesi fa. I problemi probabilmente resteranno anche con altre comunità perché è un virus che sta girando, non è... Il problema che mi dicevano è che soprattutto nelle aree povere, nelle aree del nord, è l'igiene, è la pulizia, proprio non si lavano, si lavano pochissimo, non hanno l'acqua pulita per lavarsi, insomma questo è il grosso problema. Lì il fatto di lavarsi le mani, di avere la mucchina è una cosa veramente che sta portando, mi pare, a superare i 500 mila contagiati. Sì, è una scelta poi del presidente Bolsonaro di non essere particolarmente rigido. Ma sai, sì, anche lì il paese è diviso a metà. Certo alcune iniziative sono molto singolari, ecco, quelle di Bolsonaro. E in Argentina la situazione com'è? In Argentina paradossalmente è più tranquilla e molto anche più serena dal punto di vista... Loro stanno vivendo una grave crisi economica come quella del 2001-2002, però la stanno vivendo in maniera più rasserenata rispetto a quegli anni là, che io mi ricordo bene, perché abbiamo contribuito anche a organizzare delle spedizioni di aiuti, soprattutto farmaceutici. Cambiando discorso e mettendo da parte momentaneamente perlomeno il problema del Covid, voi state lavorando molto attivamente con Radici.net, che è questo sito al quale possono fare riferimento gli italiani che sono all'estero e che possono mettersi in contatto tra loro. Negli ultimi dieci anni. Peraltro è una piattaforma che può servire ai molti ragazzi che vogliono andare all'estero. C'è qualche altra iniziativa e come si è vissuto in questo sito la pandemia? Beh, intanto noi abbiamo deciso sia come radio, sia come giornale, ogni numero del giornale, ci sono alcune interviste di questi nostri giovani, soprattutto quelli che sono impegnati nel settore medico in giro per il mondo. Abbiamo dei ragazzi bellunesi, delle ragazze bellunesi che incredibilmente sono presenti all'interno degli ospedali più quotati che ci sono in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in Stati Uniti, in giro per il mondo. Noi siamo contentissimi che dopo dieci anni siamo riusciti a mettere assieme 1100 ragazzi che si sono dati la comune, la reciproca autorizzazione per i dati e devo ringraziare tre di questi ragazzi che sono tutti e tre feltrini che hanno voluto avviare quella raccolta fondi da destinare alla U.S. numero uno, alla U.S. dolomitica numero uno. Questi tre ragazzi che hanno contribuito a raccogliere 70.000 euro e noi abbiamo affiancato tutte le nostre famiglie nel mondo nell'invitarli a versare su quel fondo. Anche questa iniziativa è nata da queste figure che sono all'interno di bellunoradici.net. Del resto con questi ragazzi stiamo facendo anche in questi ultimi giorni delle dirette. Delle dirette ogni due o tre giorni abbiamo un ragazzo che parla della sua testimonianza. Mi viene in mente la dottoressa Chan di Domeggio di Cadore che opera a Barcellona in prima linea e come lei ce ne sono decine e decine di ragazzi e ragazze bellunesi. Quindi anche la radio che è sempre stata aperta ha dato una mano moltissima su questo. Questa vostra iniziativa ha contagiato anche i giovani che vogliono andare all'estero, che magari non hanno una posizione ma che vogliono avere delle informazioni. Ma tu sai che noi siamo più d'accordo che loro facciano questa esperienza, diventino più bravi, acquisiscano delle nuove conoscenze, colgano queste opportunità, ma noi vorremmo che il bellunese offrisse l'opportunità loro di rientrare sia per lavorare nel caso della medicina negli ospedali nostri oppure negli altri settori di andare nelle nostre aziende pubbliche oppure nelle nostre imprese private. E su questo devo dirti che rispetto a un anno fa noi abbiamo chiuso un accordo con Confindustria per questo sportello online che possa permettere e consentire questi contatti. cioè Andrea Cecchella si trova a Londra, qui c'è una società pubblica o un'impresa privata che ha bisogno di una determinata figura, noi chiediamo non di assumere Andrea Cecchella, chiediamo che Andrea Cecchella sia messo nelle condizioni di poter fare un colloquio, di mostrare i suoi interessi e vedere se l'accordo anche economico lo può soddisfare. E questo è stato rafforzato con il Fondazione Welfare, presieduto dalla provincia di Biasi, che ha visto subito questa nostra iniziativa, l'ha subito approvata, l'accolta, ci siamo incontrati e quindi oltre che Confindustria e le altre associazioni di categoria e il sindacato, abbiamo anche il sindacato e altri soggetti pubblici attraverso questo Fondo Welfare. Una delle attività è anche quello di chiamare e aiutare coloro che vogliono ritornare in Italia a venirci, il turismo delle radici, come l'avete detto, chiaramente rallenta quest'anno. Questo è un progetto che è stato lanciato da noi, da Lunai, che vuol dire l'Associazione Italiana di Emigrazione, due anni fa. Il Ministero l'ha fatto proprio, ci sono state negli ultimi due anni due riunioni al Ministero degli Esteri con una sessantina di rappresentanti di tutta Italia. Quest'anno si è tenuto in videoconferenza alcuni giorni fa, erano 90 i presenti e ci sta cercando di fare il massimo sforzo per permettere non solo agli italiani di fare le vacanze in Italia, ma a tutte le persone italiane che sono all'estero o quelli che sono gli oriundi italiani che vivono all'estero, di metterli nelle condizioni di poter venire a visitare il nostro Paese. Soprattutto in questo particolare momento dove il settore del turismo ha bisogno, ha bisogno di avere persone che vanno a utilizzare le loro strutture. Il Presidente del Consiglio dei Ministri permettendo, perché ci sono dei blocchi per l'entrata. Sì, beh, bisognerebbe che il Ministero degli Esteri e il Governo tutto facesse anche un'azione in cui faccia pesare il peso dell'Italia a livello europeo, ma si ricordi anche, qualora qualcuno non fosse sordo, forse non avesse voglia di capire, che c'è anche il girone di ritorno. Il girone di ritorno l'Italia non può essere rappresentata da un Governo spettatore, ma il Governo deve assumere una forte posizione politica. Qui non stiamo giocando alle palline, stiamo giocando a robe serie. Naturalmente gli effetti della pandemia proseguono e l'incertezza di quello che può accadere, anche perché si parla di un ritorno del virus in autunno, fa sì che molte manifestazioni siano state sospese, anche importanti e ormai molto radicati. Mi dispiace moltissimo perché quest'anno volevamo ritornare in Cadore, esattamente a Valle di Cadore, alla festa dei Belunesi. Dopo il successo di quella dell'anno scorso a Canale D'Agodo, quest'anno avevamo sicuri, avevamo parlato con la sindaca Mariana Offer, avevamo organizzato tutto con il comitato della festa a viaggio nel futuro, che è a Costa, nella frazione Costa, la sposteremo il prossimo anno. Abbiamo in mente un appuntamento per tutti coloro che sono interessati, l'8 di agosto, tutti a Limana, nella bellissima frazione di Ceresera, per onorare i caduti di Marsinelli, i caduti in tutte le miniere. Sarà il 64esimo anno in cui ricordiamo questa tragedia e vogliamo trasformare, vorremmo trasformare questo appuntamento di Limana, di Ceresera e di Limana, in un momento che vada a sostituire tutte le mancate manifestazioni che si sono tenute fino ad oggi. L'8 agosto non è a caso perché è l'anniversario. È l'anniversario, il comitato lì dei residenti, non solo degli anziani emigranti, ma anche dei loro figli e nipoti, hanno realizzato un'area parcheggio, un'area picnic, alcune sculture dedicate alle migrazioni miniera che meritano veramente di essere rinaurate dopo un anno dalla loro realizzazione. A proposito di miniera, vi è stato fatto un dono da parte del Rotary. Sì, devo ringraziare il Rotary di Belluno, presieduto dall'ingegner Gaillardo, presente anche la incoming president che prenderà servizio in questo mese di giugno. ci hanno regalato due miniere, una di Mattmark e una di una miniere. Due miniere no, due lampade d'aminatore, una di queste mi ricordava nella mia infanzia quando facevo il pastore, a 6-7-8 anni, che sì, aveva il carburo, ma non è il caso delle miniere perché non si poteva usarlo. È stata veramente una bella, semplice cerimonia, fatta in videoconferenza addirittura con i governatori non solo del Veneto, del Triveneto, ma anche della Lombardia e l'abbiamo messa nel nostro museo che ricordo è multimediale ma ha anche una parte dedicata ai minatori e ai gelatieri di tipo tradizionale, quindi con gli oggetti che vanno ad arricchire il vostro museo. Siamo insieme a due valigie e devo ringraziare queste persone in Sospirolo che hanno voluto fare questa donazione a Rotary e Rotary che è stato autorizzato a girarla all'Associazione Belunesi del Mondo. Peraltro voi ci avete lavorato molto, Marsinelle è un punto di svolta dell'emigrazione italiana in modo particolare, perché da quel momento si è capito che il trattamento riservato agli emigranti non era proprio i più civili. Si è capito come l'accordo Italia-Belgio fosse stato un imbroglio. Ricordiamo che l'accordo era lavoratori in cambio di carbone. Sì, ma li hanno imbrogliati sulla tariffa oraria, perché invece che fare al netto hanno fatto al lordo e quindi là già hanno rimesso un 15-20%. E poi c'era l'altro aspetto che gli alloggi dovevano essere, c'è un passaggio preciso, dovevano essere alloggi adeguati. Erano le baracche dei prigionieri di guerra, quindi per raccontare due aspetti del trattato che l'Italia ha dovuto subire e in qualche maniera non ha neanche esercitato una mediazione. Non sono stati dei bravi commercianti i nostri rappresentanti dell'epoca. Diciamo che eravamo un po' deboli. Un po' deboli, sì. In quel periodo c'è una bellissima frase di De Gasperi che a Parigi, nel momento in cui si stabiliscono le nuove regole, dice «So che tutto è contro di me tranne la vostra personale simpatia». Una frase bellissima, ma l'Italia era in visa. Intanto per ricordarti il Matmark, che è il motivo per cui è nata l'associazione su idea di Vicenzo Barcelloni Corte e di Patrizio De Martín. a Matmark, che è avvenuto nel 1966, noi siamo nati subito dopo. Nel 1966 cosa è successo? È successo che i governanti della Svizzera e del canton valese hanno chiesto scusa per quel disastro, lo hanno chiesto soltanto due anni fa, quando abbiamo fatto la manifestazione due anni fa. Il presidente del canton valese nel suo discorso dopo la messa, dopo la santa messa, ha detto per la prima volta «Ci scusiamo con voi». Tieni presente che tutti i processi alla fine hanno fatto assolvere tutti. Diciamo che non è una novità. Dobbiamo chiudere questo incontro con Oscar De Bonnac, che ringrazio. Li invito a visitare il museo interattivo, multimediale interattivo. È multimediale interattivo. Ma bisogna spiegare cosa vuol dire, ci sono 11 monitor, non tutto si può vedere perché sennò bisogna avere 600 metri quadri di museo, ma si può percepire qual è il messaggio. Si può percepire perché abbiamo le guide volontarie che danno le spiegazioni. E poi l'appuntamento per l'8 di agosto. Grazie a Oscar De Bonnac, grazie a voi per averci seguito. Buona serata.